Una grande festa, grandi eventi, molta responsabilità, il tempo è clemente, insomma una buona giornata. Guarda, buonissima giornata, non potevamo sperare il meglio per come si presentavano le giornate precedenti, è andata tutto bene, tutti ci hanno dato delle soddisfazioni, grandissimo afflusso di pubblico, e niente, anche quest'anno è andata bene, speriamo l'anno prossimo di migliorare e che ci accompagni un po' di sole, però la gente ha avuto fiducia e devo ringraziare tutti, a partire dalle associazioni, dai dipendenti comunali, dai consiglieri regionali, da Sua Eccellenza al Vescovo, dal Questore, al Prefetto e tutti gli ospiti. E mi scuso se ho dimenticato qualcuno. A Trusannoso e Meloso.